L'Informa Giovani Eurodesk del Comune di Sassari ha vinto la prima edizione del Premio Nazionale Eurodesk Italy. L'ufficio ha ottenuto il miglior piazzamento tra i partecipanti italiani agli Eurodesk Awards nella categoria Active Citizenship, con il progetto Motivi d'Arte, Informa Giovani Come Back to Town. I dipendenti dell'Informa Giovani Eurodesk sassarese hanno partecipato alla cerimonia della consegna del premio a Cagliari, in occasione del seminario annuale di formazione e aggiornamento della rete nazionale italiana Eurodesk. Un riconoscimento che, oltre a darci grande soddisfazione e riempirci di orgoglio, rappresenta un'opportunità importante per dare visibilità al programma realizzato e alle attività ideate dall'ufficio in piazza Santa Caterina, dove lavorano persone che, in ciò che fanno, mettono grande professionalità, entusiasmo ed energie, ha commentato l'assessore alle politiche educative infanzia, giovani e sport al baccano. Motivi d'Arte è stato selezionato da una giuria internazionale, composta da rappresentanti della Commissione Europea, della Presidenza di Eurodesk e dei principali network europei di organizzazioni giovanili.